Qui è un appensamento di 4 ettari totalmente distrutto, irrecuperabile. Purtroppo è il secondo anno di fila che succede, non sappiamo più cosa dire. La grandinata che ha colpito nelle scorse ore la Valtiberina tra i comuni di Anghiari e Sansepolcro ha messo di nuovo in ginocchio le aziende agricole che producono tabacco, tabacco di qualità per il sigaro toscano, il campo che alle mie spalle è perso per il 100%. È durato circa 30 minuti, in due tempi, alle 15 e alle 17, più o meno come le palline da golf. La dimensione media era quella delle palline da golf. Le foglie ormai sono spezzate. Il tabacco nero, la foglia deve essere, la costola deve essere integra. Qui ormai è prodotto con il 100% di danno e irrecuperabile. Sia nella zona di Motina che nel piano della Sovara il danno supera l'80% e come abbiamo visto in alcuni casi tocca il picco del 100%. Qui le piante erano praticamente pronte per la raccolta. Era proprio pronto per la raccolta a mercoledì prossimo e quindi qui non c'è proprio assolutamente nulla da recuperare per una superficie circa di 7 ettari. Io credo che qualcosa all'istituzione della regione andrà chiesto perché dopo due anni così è dura.